Siamo contenti di aver contribuito a fare diventare la Lega oggi il primo partito della destra. Siamo contenti di aver come città, a terme di Rion, essere quella che ha dato l'apporto maggiore alla Lega. Dopo la grande delusione per aver visto sfumare il seggio al Senato, per quel pugno di voti che hanno escluso la Lega dalla Sicilia, facendo scattare lo scranno di Matteo Salvini in Calabria, Tilde Minasi ha voglia comunque di festeggiare il quasi 8% dei consensi ottenuto sul territorio cittadino. Un dato che segna, anche secondo Germanoia il recupero, un punto di svolta per la destra regina che adesso guarda con fiducia alle regionali e alle comunali. E poi Salvini al Senato farà gli interessi della Calabria, almeno secondo quanto sostenuto dalla Minasi. Ma questo per via di una balorda legge elettorale, ma al di là della poltrona, al di là del ruolo, io credo che Matteo Salvini dimostrerà grande interesse, lo ha dichiarato lui da subito, di voler ripartire proprio da Reggio Calabria, ma in ogni modo ci sarò sempre io a far da stimolo affinché lui porti e soddisfi anche le esigenze del nostro territorio. Riccardo Tripepi per la CNews24